Il trasferimento di Kate Middleton e del principe William a Windsor è un atto deliberato e simbolico, ha detto uno storico reale a Express.co.uk. Si dice che il duca e la duchessa di Cambridge stiano pianificando attivamente di trasferirsi a Windsor, e la mossa potrebbe essere annunciata a breve. L'esperta reale Angela Levin ha lasciato intendere che i Cambridge annunceranno la loro mossa la prossima settimana o nel periodo natalizio. La regina utilizzerà il castello di Windsor come base più permanente al suo ritorno da Balmoral, poiché si sente più a casa nel ritiro storico. Punto. Anche la famiglia della duchessa vive nelle vicinanze nel Berkshire, quindi sarebbe una mossa sensata per la famiglia. La monarchia è in un momento di transizione secondo lo storico reale di R. Ed Owens. È un ex docente universitario e autore di The Family Firm. Ha detto a Express.co.uk. Dal momento della Magixit di quasi 18 mesi fa, i Cambridge hanno cercato di ridefinire se stessi ed elevare la loro immagine pubblica. Il problema di essere Adam Rowell era che erano piuttosto fuori dagli occhi del pubblico. Ovviamente hanno sempre avuto i loro appartamenti a Kensington Palace, che è stata la loro base londinese, ma trasferirsi nel sud-est e nell'area di Windsor rappresenta un'opportunità per elevare la loro immagine pubblica, per rendersi più visibili. Le GDP. D. R. Shola furioso con Pierce per aver usato i Queen William e Kate sono noti per apprezzare lo stile di vita che deriva dal vivere in campagna e dalla privacy che ne deriva. William in particolare è sempre stato particolarmente protettivo nei confronti della sua privacy. Il dottor Owens nota che questo è uno dei motivi per cui ha scelto la ST Andrews University per i suoi studi, per sfuggire alla costante ricerca di giornalisti scandalistici e paparazzi. La loro attuale base Adam Rowell, nella tenuta di Sandringham, è molto lontana da Londra e molto lontana dagli occhi del pubblico. Windsor, nel frattempo, consentirebbe ai Cambridge e ai loro figli di abbracciare la campagna e la vita di campagna, pur trovandosi a circa un'ora fuori dalla capitale.